Dovute alla nostra non fisicità. Ritrovarsi attraverso Mario del Giglio. Miei cari fratelli, il nostro dire deve essere sempre quello di fratelli che sono vicini a voi, ma con esperienze diverse, dovute alla nostra non fisicità. Noi possiamo attingere a conoscenze e dare delle risposte che provengono da altri fratelli, sempre della stessa spirale. Come vedete, il concetto della spirale in senso orizzontale ci dà la possibilità di comprendere che la felicità è quella che si ha quando si applica con umiltà il sapere. Non si può sapere se non si è umili. Voi pensate che il cammino evolutivo sia rappresentato dal congiungimento di un punto con un altro in ascesa, come dicevamo all'inizio delle comunicazioni. Salire i gradini uno per volta, ricordate? Ora che siamo più avanti, non possiamo più usare l'immagine dei gradini, bensì quella delle linee, dei punti. Non si sale più, ma si prende coscienza attraverso il proprio sentire. Allora possiamo dire che la spirale è composta da alcune linee. Sì, voi vedete le linee. Ma cosa sono le linee? Un insieme di punti. Ecco, la spirale è formata da linee composte da tanti minuscoli, diciamo piccolissimi punti. Ogni punto rappresenta la vostra presa di coscienza, il vostro stato di sentire. La vostra posizione nella spirale dipende dal vostro stato di sentire, che non è frutto della vostra mente. Più prendete coscienza, più voi come punto diventate linea. Ecco cosa vuol dire evoluzione. Finché rimarrete punto fermo di questa spirale, voi non avrete ampliato il vostro sentire e non avrete raggiunto un livello di coscienza tale da farvi percepire di essere elemento di quella spirale e di essere evoluti. Ezie a tutti. Grazie a tutti